Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video di Fortnite Rimedio vs Tossina, è ciò di cui parleremo quest'oggi all'interno di questo video La skin che oramai da qualche settimana non prevede più 3 stili selezionabili, bensì 4 Ed eccovelo qui l'ultimo Mi avete fatto tantissime domande, sia nei video che nelle live, su come ottenere questo quarto stile La risposta è semplicissima e risiede all'interno di quelle che sono le sfide overtime Ovvero le sfide a tempo straordinario E siccome l'immagine del lucchetto sopra questo nuovo stile comincia a stancare andiamo al dunque Che poi tra l'altro bellissima skin ovviamente da vedere senza questo backpack che non c'entra nulla E bisogna dire una cosa importante prima di partire con tutte le sfide che riguarderanno questa skin È molto probabile che ci saranno 3 ondate di sfide La prima ondata di sfide sarà incentrata solamente su questo quarto stile e come ottenere anche il backpack ed il piccone dello stesso set Quindi queste prime sfide che usciranno tra 13 giorni ragazzi riguarderanno solamente rimedio contro tossina Le altre poi vedremo, per il momento non ci sono informazioni del tutto particolari Il terzo stile del piccone ragazzi è proprio questo qui, ascoltate Bel sound compatto, mi pare che non cambi tra le varie versioni, infatti No Clicchiamo sul backpack ragazzi questo è il backpack che riceverà ovviamente un altro stile Ed eccolo lì bellissimo con il suo lucchetto sopra Bellino ragazzi anche con questo effetto sulla destra mi piace parecchio Velocemente passiamo alla prima ondata di sfide a tempo straordinario che come ci ho detto riguarderanno questa skin Sono 12 anche se le prime due sinceramente non le andrei a contare E innanzitutto prima di partire ringrazio Gabriel per l'immagine nonché i games leaks E anche i leakers che in questo caso sono StefanoDVX e Dark, grazie raga Raggiungi il livello pass battaglia, il livello 40 e ci siamo, credo che ci siano tutti oramai Completa gli obiettivi, rimedio versus tossina, ok Terza sfida, visita diversi camion street food, 0 su 3 La quarta dice di ottenere medaglie e supersite argento, sempre 0 su 3 Quinta, eliminazioni con mitragliette Continuiamo a ruota ragazzi Si cercano i forzieri nei luoghi storici come se sta sfida, i luoghi storici sapete quali sono Ho già portato un video dettagliato sul canale su questa sfida Settima sfida, raggiungi 100 punti, salute e scudo in partite diverse, 0 su 3, va bene, facile Ottava, infliggi danni agli avversari con un'arma comune, non comune e rara in una sola partita Infliggi danni alle strutture nemiche per un totale di 2500 di danno verso queste strutture Visita diverse fermate del bus in una partita singola, interessante Ottieni incomita specialista infliggendo danni con armi, 0 su 5 L'ultima sfida dovrebbe essere parecchio divertente Perché dice di prendere un pesce prima degli altri Atterrare prima degli altri dal bus della battaglia E ottenere un'eliminazione prima degli altri Ci siamo ragazzi? Queste sono tutte le prime sfide a tempo straordinario Come ho già detto ci dovrebbero essere altre due wave che poi riguarderanno altre due skin Dato che ogni volta che escono le sfide overtime riguardano sempre e solo tre skin Che sono all'interno del pass battaglia Detto questo, belli miei, prima di andare a cliccare su un nego soggetti e su quel bruttissimo punto esclamativo Andiamo all'interno del nostro capanno di mezzo d'inverno Apriamo il nostro regalino quotidiano Andiamo, andiamo, andiamo Dai, dai, dai Vediamo che cosa ci aspetta quest'oggi Allora, che bei regali che abbiamo qui e che bei colori Io spero sempre su questo ma Purtroppo non sarà mai disponibile Si deve tenere per ultimo ragazzi È la regola A quanto pare sono rimasti il colore rosso Il colore giallo Barra arancione Barra marrone Il colore celeste Il colore blu E poi quello verde che non posso aprire ovviamente E ce n'abbiamo un altro qui sulla destra Che è tipo un grigio blu Ma questo non lo andrò ad aprire Perché so già che cosa si trova all'interno di esso E non mi piace proprio ragazzi Riguarda qualcosa di Star Wars se non sbaglio Sì, dovrebbe esserci uno standardo che si andrà ad affiggere poi qua sopra Io comunque non vedo l'ora che attivino i punti esperienza super caricati Per andare avanti e dietro con il nostro caminetto ragazzi Mi divertirò un sacco Ma comunque basta chiacchiere Andiamo indietro, andiamo indietro Raga, regalini Forse punto su questo diretto, dai Non lo so raga, aiutatemi voi Io sono sempre indeciso su queste cose Allora Il sound che mi piace di più No No, 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 no Vediamo Le pistole laser non vanno bene Questo qua l'abbiamo già ascoltato, sì Ed il rosso no Il rosso no ragazzi Lo teniamo per ultimo Va bene Allora, andiamo sul pacchettino arancione Va bene Andiamo su questo pacchettino piccolino Apriamo raga Andiamo, andiamo, andiamo Vediamo, vediamo, vediamo Dai, 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 dai Carino Carinissimo ragazzi E dai Ascoltiamo Mi piace, mi piace, mi piace Affettatrici di pasta frolla GGissimo Riscattiamo E via Primissima dello shop però raga Ho bisogno di portare avanti Il mio Martexone E quindi capanno di mezz'inverno Andiamo ad aprire i nostri due regalini giornalieri Ed eccolo qui lo standardo che dicevo Ma in realtà non è uno standardo Bensì un backpack Allora Che regalini abbiamo qui? Questo l'ho aperto poco fa nell'altro account Voglio vedere che cosa ci trovo Apriamo subito ragazzi Apriamo Apriamo Sono felicissimo E sono curiosissimo GG Jingle Mary Bellissima questa scia Ci sta tantissimo Tra poco la andremo a vedere Perché questa scia Ha ben tre stili selezionabili Mi sono dimenticato di farla vedere In un video precedente Purtroppo ragazzi Perdonatemi Secondo regalino E Qui è difficile Il rosso Come al solito No Vediamo Anzi Ascoltiamo Non vediamo Il sound mi pare che siano tutti uguali Cioè Uguali anche all'altro account Vado con questo ragazzi Via 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 Vediamo 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 Oh Siamo andati proprio bene questa mattina ragazzi Pigna cadente Fantastico Devo ricordarmi assolutamente questo regalino Bellissimo il deltaplano Riscattiamo anche questo GG a noi raga Ottimo lavoro Da notare dove ha posizionato il deltaplano Lì in alta a sinistra Nell'angolino Bellissimo Troppo bello La scia invece dovrebbe essere questa ghirlanda di lato Se non sbaglio Comunque a proposito della scia Allora dove Eccola qui Stili selezionabili Fantastica raga Cioè tre stili selezionabili per una scia Eccola qui Ghirlanda Ghirlanda luminosa E poi per ultima abbiamo Ghirlanda festosa La migliore tra le tre E mi pare che sia anche la prima volta che vedo così tanti stili selezionabili All'interno di una sola scia Cioè stiamo parlando della scia Fosse un backpack Un piccone ma Scia epica E tre stili Ok E sono contentissimo di questo regalo del giorno 9 Adesso invece ragazzi Andiamo a cliccare sul nostro negozio oggetti E questo è lo shop di oggi Ma che cosa hanno combinato John Wick Ma siamo seri John Wick 27 dicembre E mi mettono John Wick e Sofia nello shop Allora il martellone Sempre accettato by Martex E ci sta Mi piace Però dai vogliamo le super skin nozze di Natale Ah Bellissime emote da 500 Poi che cosa abbiamo Il mio idolo Grazie mille Black Per questo regalo Grazie 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 E bellissime emote da 200 Per venerare gli eventi che si presentano ogni volta su Fortnite Raga Noi li aspettiamo così gli eventi Fantastico Punto di rottura E un'altra emote da 200 V-Bucks Che Troppo bella ragazzi Troppo Uscita anche Ombra ammantata Una skin strabella da 1500 V-Bucks Che ovviamente non poteva mancare all'interno di uno shop natalizio Perché in molti stentano a crederci Ma ragazzi questa è proprio una skin di Natale Prima apparizione stagione 7 Infatti mi sa che è uscita il 26-27-28 dicembre dell'anno scorso Assassino Artico Nessuna parola negativa da spendere su questa skin da 1200 V-Bucks stravecchie della stagione 1 La amo Ma torniamo indietro e clicchiamo su ascia da battaglia Eccola qui Un piccone da 800 V-Bucks E questo non usciva dal 23 maggio scorso Quindi è passato parecchio tempo Bravissimi per il set di pandizzenzero E per il set comando confortevole Che li hanno lasciati ulteriormente per altre 24 ore nello shop La skin brividi Questo diavoletto di ghiaccio L'ho presa da veramente tante Molto bella E ben fatta con queste due megacorna Che ragazzi vanno a bucare anche il cappellino La lama di ghiaccio la facciamo riascoltare Sound perfetto ragazzi Perfetto Ed il set di John Wick sembra non finire mai Abbiamo la prima motta da 200 V-Bucks E ne abbiamo un'altra anti-proiettile Ok Però questa è da vedere sulla skin di John Wick La frappa assassino è carina Anche se preferisco il total black Che è proprio da John Wick Come ad esempio l'ombrellino tutto nero Ragazzi è fantastico quello lì Passiamo agli ultimi due item John Wick super pulito da festa E poi Malandato Con dei proiettili addosso Che possiamo rimuovere con quelli mot Che vi ho appena fatto vedere Ma assieme a lui ragazzi Non è finita Comunque raga È una skin davvero ottima 2000 V-Bucks Ma è un capolavoro di skin Abbiamo stavo dicendo Sofia 1500 V-Bucks E questa qui Davvero Mi pento di averla shoppata Perché non l'ho mai E dico mai Utilizzata In nessuna partita Nessun game Ragazzi non ci ho completato Neppure una missione Neppure Non lo so Non ci ho proprio giocato Mi dispiace perché si tratta di una skin fatta veramente bene Però Non è il mio tipo Non ne ho idea Ovviamente come sempre vi ricordo La solita cosa ragazzi Potete sostenermi tramite tutti i vostri acquisti Cliccando qui in basso a destra Su supporta un creatore Al centro delle schermate Poi dovete digitare questo code GKR Martex Tutto attaccato Un maiuscolo minuscolo E uguale Cliccate su se accetta Ed il gioco è fatto Ricordatevi di riaggiornare il codice Lì in alto a destra Ogni 14 giorni Grazie mille a tutti i miei sostenitori Grazie 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 ragazzi Se riuscite fate anche una storia E mi taggate su Instagram Martex TV Io spero che questo video vi sia piaciuto E che soprattutto vi abbia intrattenuto Se così fosse mi raccomando Lasciate un bel like Condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti raga Noi ci becchiamo tra pochissimi live Oppure in un prossimo video Un salutone da Martex Ciao Ciao